Forse in ordine meritano il nostro atto d'amore, sono con sacrificio, in silenzio, impegnati a tutelare la nostra sicurezza, la nostra convivenza civile. Spesso noi non immaginiamo, non riusciamo a comprendere quando c'è sacrificio dietro ogni divisa e amore è loro per noi, per la collettività. Io dico sempre la legalità e la responsabilità. Quello che mi auguro è che ci riappropriamo tutti dei valori e dei principi che abbiamo posto a base della nostra convivenza con la nostra Costituzione. Il primo principio è quello della solidarietà, dell'impegno e della partecipazione. Questi sono i doveri fondamentali e solo se assorbiamo questi doveri noi siamo in grado di fruire davvero dei diritti di libertà che la Costituzione ci dà. Come diceva Gaber, la libertà è partecipazione e quindi questo è il messaggio, è l'auspicio per tutti noi perché siamo tutti noi componenti della nostra comunità.